Mare nostro, un terra in salus, questo è il titolo che abbiamo dato al Sardei 2024, perché parlare di mare e terra? Perché se l'ambiente è protetto, tutelato, anche la nostra salute è tutelata, è un approccio che viene definito One Health, è un approccio circolare, avvolgente e tutti insieme, quindi dobbiamo lavorare con questo obiettivo. In queste due giornate noi faremo un evento formativo all'Hotella Torre, dove un momento chiave fondamentale è una tavola rotonda, dove avremo i rappresentanti dell'assessorato alla salute, l'assessorato agricoltura pesca, il direttore dell'ARPA, il CNR, l'università, tutti quanti a parlare di quelli che sono stati i progetti messi in piedi per arginare questi problemi ambientali contestualmente in piazza. Il mare di salute, ovvero la possibilità di dare alle persone di fare gratuitamente uno screening per il colesterolo, trigliceridi, glicemia, controllo oppressorio, grazie all'intervento del Rotary Club, uno screening sull'artrite aromatoide. Le chicche di quest'anno sono il coinvolgimento dell'ARPA con un igloo che permetteranno di entrare in questi igloo e quasi praticamente trovarsi a vivere un'emozione eccezionale che è quella di una immersione virtuale nei nostri mari. Contestualmente la presenza bellissima, devo dire, dei nostri pescatori che daranno il loro contributo portando in piazza tutte le loro strumentazioni che nel tempo hanno utilizzato proprio per coinvolgere un poco tutti quanti. Il giorno 16 si farà questa sezione dedicata al mare in onda, cioè tutte le immagini che operatori straordinari, subacquei e non, hanno fatto nel tempo e che ci permetteranno di vedere quanto sia bello e importante tutelare l'ambiente. L'invito a tutti, ma proprio a tutti, è di venire il 15 e il 16 di marzo a Mondello a godere di tutto quanto abbiamo preparato per voi, per il benessere di tutti, per un benessere globale, per un benessere che deve circolare.